Ciao bambini, oggi volevo portarvi con me nel mio maneggio perché stanotte è successa una cosa bellissima. Sono nati due culedrini maschi, venite con me che ve li faccio conoscere. Ciao bambini, questo è Bai e la sua mamma si chiama Normandia. È tutta bianca, lui invece per ora è marrone, con una piccola goccia bianca in fronte. Forse quando crescerà il suo pelo cambierà di nuovo colore e assomiglierà a quello della sua mamma. Eccolo già in piedi, qui è già pronto per affrontare la sua giornata. Però quando si stanca si rimette giù e fa ancora un po' di nanna. Lui invece è Bambi, la sua mamma si chiama Larita ed è marrone proprio come lui. Appena nati cercano già di alzarsi in piedi e puppano latte dalle loro mamme perché hanno tanta tanta fame. Ma sapete i bambini cosa li piace tanto fare? Li piace tanto farsi grattare e cercano sempre tantissime coccole e attenzione soprattutto dai bambini. Quando escano fuori dalla sua casetta, che si chiama Box, seguono sempre la loro mamma e non la lasciano mai. Una volta fuori nel campo in erba, wow, esplodono di felicità. E si mettono a correre, 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 correre e velocissimi. E si divertano da matti e giocano tanto, tanto, tanto. Mentre le loro mamme mangiano un po' di erba. Mentre le loro mamme mangiano un po' di erba. Guardate come sono felici i bambini, giocano anche con le mamme. Qui stanno facendo una sorta di girotondo. Qui stanno facendo un po' di erba. ciao bambini alla prossima avventura insieme un bacione dai fulledrini